inutile nascondersi quello che sta che sta facendo la differenza almeno per quello che abbiamo visto in questa prima inter ma dalla prima partita dalla prima partita di precampionato ad oggi dalla prima partita non diciamo di precampionato ad oggi quello che sta facendo fare il salto di qualità questa inter è il piccoletto quello piccoletto con la 12 quello è, c'è poco da fare non l'avrei mai immaginato, non l'avrei mai immaginato, è presto per parlare, è presto per fare paragone ste cazzate Iniesta non Iniesta, Iniesta non Iniesta è forte, punto basta, ovviamente poi i giornalisti il problema è che poi te lo insaltano, te lo portano ma quello che sta cambiando le cose in questa inter è lui oltre a un sacco di altre cose ma al momento sta squadra mi sembra soprattutto dipendente dalle sue giocate dipendente da quello che che porta sia in ambito realizzativo perché poi sta segnando il rigore procurato nella scorsa partita questi sono punti tutte queste cose poi si tramutano in punti veri e propri oggi il gol gli inserimenti cioè il gioco dette i tempi la qualità in mezzo a casa Stefanino mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia una manna dal cielo cioè io ad oggi non l'avrei mai mai potuto credere tra tutti gli acquisti quello c'è 80 milioni o quello così quello chi l'avrebbe mai detto ma ad oggi veramente Sensi merita l'attenzione all'attenzione di noi tifosi ma non solo di noi tifosi l'attenzione degli amanti del calcio merita l'attenzione perché veramente questo ragazzo venuto così quasi dal nulla perché i milanisti ridevano all'inizio è bene o male che ve lo siete col cavolo col cavolo col cavolo e invece 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 questo ragazzo qua sta facendo le nostre fortune ad oggi ad oggi sta facendo le nostre fortune ovviamente sono cambiate molte cose ci sono tante tante notte positive ma anche qualcosa che ancora assolutamente deve deve essere migliorata perché comunque inter oggi vince 1 a 0 con l'udinese ma non è una prestazione per me proprio esaltantissima anzi anzi con l'uomo in più nel secondo tempo abbiamo creato poco udinese viva fino all'ultimo minuto della partita udinese viva fino all'ultimo minuto della partita e non lo dobbiamo permettere non lo dobbiamo permettere però non sono qui ovviamente a sparlare di questa squadra qua perché c'è poco da sparlare alla fine 3 vittorie su 3 9 punti è vero direte voi lecce udinese Cagliari ok ma sono proprio queste le partite che l'Inter nei passati anni lasciava così perdeva terreno proprio in queste gare qua quindi 9 punti su 9 non è un risultato malvagio credo non è assolutamente malvagio ci sono da migliorare tanti tanti aspetti sicuramente ripeto questa è una partita che devi chiudere devi osare di più nel secondo tempo con l'uomo in più nel primo tempo è giocato quasi alla pari secondo me con l'avversario forse qualcosa in più però però devi devi osare devi usare un po' di più parlavamo del centrocampo di Sensi vogliamo dell'attacco ma un'altra menzione io la farei alla difesa l'Inter ha tre difensori centrali paurosi paurosi è vero che bisogna attestarli poi in gare è un pochettino più importante ma secondo me per quello che hanno dimostrato anche stasera se De Vrij Godin Skriniar queste tre insieme sono pazzesche ma non solo dal punto di vista difensivo poi non è un caso che Godin fa l'assist per Sensi sono tutte queste serie di novità questa serie di cambiamenti che ti porta a una rivoluzione che sta beneficiando sta beneficiando senz'altro vediamo un po' sono tre punti sono tre punti importanti e siamo c'è felicità e c'è contentezza assolutamente sì però ovvio che bisogna bisogna star calmi bisogna star sereni non fare proclami non cadere nei soliti errori dell'esaltarsi stiamo lavorando bene c'è tanto da migliorare dobbiamo farlo sarà un mese pesantissimo dove dovremo veramente dare il massimo in ogni partita perché ci sono tanti impegni vedremo già fra due giorni tre c'è l'altra partita con lo Slavia Praga poi c'è l'altra campionata poi c'è il turno infrasettimanale quindi adesso si inizierà a macinare ed è importante non perdere punti in queste partite qua quindi ottima ottima vittoria mi è piaciuto Tonino Volpone è stato un Volpone ha iniziato male ha perso qualche pallone ma poi Tonino mio e diciamo con quella con quell'espulsione è stata un po' la mossa vincente se andiamo a vedere perché se questo Udinese giochi in 11 per tutta la gara non è una partita semplice non era non era affatto una partita semplice se questo Udinese gioca 11 11 contro 11 per tutta la gara è un po' da valutare però sicuramente l'espulsione c'era forse poteva starci anche l'ammunizione lo dico per Candreva anzi ci stava bisogna dirla come sta perché poi alla fine Candreva è stato un provocatore provocato non giustifica il fatto che quello gli dà un ceffone bello e buono quindi secondo me la giusta sentenza sarebbe stata ammunizione Candreva espulsione De Paul ammunizione che poi magari avrebbe portata un'altra ammunizione non lo so nei minuti finali di Candreva quindi sarebbe stata espulsione però che magari non sarebbe avvenuta questo non lo sappiamo però in quel frangente là io avrei munito anche Candreva ma l'espulsione per De Paul quella è sacrosanto gli ha dato un ceffone bello e buono ragazzi gli ha dato gli ha dato un sbellone faccia del bicarbonato l'ho sentito l'ho sentito da qua l'ho sentito la casa generale l'ho sentito il tom boom è la miseria quindi ci sta l'espulsione ci sta e è andata così si è dimostrato una mossa vicenda poi Candreva Candreva ma lo stesso Samoa i due esterni fanno un lavoro omicidiale lo fanno bene secondo me stanno svolgendo bene il loro compito Barella uscito Barella deve ancora deve lavorare Barella deve lavorare tanto Brozovic mi è piaciuto alla fine dai giusti tempi non mi è dispiaciuto Lukaku 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 forse un passettino indietro però viene fa sponda cerca sempre di aiutare però oggi l'ho visto più fermo più fermo del solito ovviamente c'è 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 da lavorare c'è da lavorare Politano ragazzi scusate veramente ho fatto tante 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 chiacchiere ma come dicevo se non sbaglio oggi su Instagram lo dicevo su Instagram una voglia quindi seguitemi anche su Instagram in descrizione trovate il profilo il link per il profilo Politano anche lui merita una menzione speciale ragazzi Politano fatto piovere nevicare una mina vagante assolutamente fatto bene ecco ecco la differenza alcune volte tra alcuni allenatori e altri oggi per esempio Lukaku non era in forma aveva problemi anche alla spalla è uscito cioè il problema alla schiena è uscito Politano ha giocato finché ha potuto noi ricordiamo bene che Politano era il primo sempre per forza di cose a essere sostituito invece no grande partita di Politano ha giocato bene veramente secondo me può essere può essere un ottimo un ottimo giocatore da affiancare a Lukaku quindi bisogna lavorare Lautaro come dicevo anche nel video dell'agente di Lautaro poche chiacchiere poi è stato smandito meglio così ottimo sono d'accordo ma poche chiacchiere facciamo parlare il campo perché comunque l'Inter con Antonio Conte che infonde una mentalità importante a tutti i giocatori ogni giocatore deve sudarsi il posto cioè nulla è garantito perché questo Politano se gioca così come lo tieni fuori Politano Politano stasera ha macinato gioco ha fatto la differenza lì davanti una vera e propria mina vagante è un Politano del genere non lo tieni facilmente fuori se gioca così non lo tieni fuori perché ti salta l'uomo ti crea superiorità numerica svizza da tutti i lati se ne va a destra se ne va a sinistra non è non è poca roba ecco perché ognuno deve far parlare il campo e poche chiacchiere poche chiacchiere esordio di Sanchez anche buono perché poteva segnare mamma mia andato lì lì per segnare sarebbe stato un esordio albace ma soprattutto acquisiva già a maggiore sicurezza perché ha bisogno anche di segnare Sanchez lo sappiamo viene da due annate abbastanza tristi quindi sarebbe stato bello vedere il gol ma va bene così 1-0 per quello che si è visto tra primo e secondo tempo risultato giusto si deve si può fare qualcosa in più ma siamo a settembre è la terza giornata di Serie A non tutto è assimilato e ci mancherebbe altro quindi ci prendiamo questi 9 punti in 3 partite che sono veramente tanta tanta roba un grande abbraccio da Neschi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate leccate iscrivetevi al canale un grande abbraccio buonanotte ciao 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 Grazie a tutti.